BTO Nei giorni 29 e 30 novembre si è tenuta alla fortezza da basso a Firenze la quinta edizione di BTO By Tourism Online BTO è una full immersion di informazione sui temi del Travel 2.0 Punto d'incontro tra gli operatori della filiera turistico-ricettiva e i player tecnologici che stanno trasformando il settore Tanti gli argomenti di temi trattati legati alle nuove tecnologie e al nuovo modo di fare marketing online Da Facebook a Twitter, da Google AdWords a Ideal BTO è un evento promosso da Regione Toscana, Toscana Promozione e Camera di Commercio di Firenze Organizzato dalla Fondazione Sistema Toscana e Metropoli Con la direzione scientifica e artistica di BTO Education I sufi sono circa 900, ora non ricordo il numero esatto, 918, 9100, insomma siamo a quell'ordine lì E i siti di UNESCO sono 46, questo è un primato Buongiorno, viva Firenze.it è a BTO anche quest'anno, è la seconda edizione a cui partecipiamo Ci siamo presentati lo scorso novembre con 25 strutture alberghiere sul territorio fiorentino Siamo qui quest'anno con 200 realtà che hanno creduto in questo portale Ci vogliono affiancare in questo percorso che ha come finalità quello di fornire dei servizi Non solo dei servizi e consumi ma dei servizi con del valore aggiunto Il valore aggiunto è dato prevalentemente dal fatto che il portale trattiene la sua commissione Dalle prenotazioni alberghiere e coinvolgendo emotivamente ma non onerosamente il proprio cliente Sostiene progetti di valorizzazione e sensibilizzazione sul patrimonio culturale Del territorio fiorentino e del centro storico di Firenze Che come sappiamo è iscritto nella lista mondiale dell'umanità Tra le collaborazioni attivate per questa fine del 2012 e il 2013 Con la collaborazione dell'ufficio UNESCO del Comune di Firenze Abbiamo partecipato e saremo sempre più coinvolti nel progetto Firenze per Bene Progetto che ha come finalità proprio l'accoglienza sia dei visitatori Che dei cittadini stessi in centro con delle cargo bike Quindi delle biciclette attrezzate per fornire informazioni sulla vivibilità e migliore sostenibilità In città assieme a delle cartine che indicano i luoghi dove sostare I luoghi da vedere diversi da quelli che sono principalmente visitati Un decalogo di comportamento proprio per vivere nel modo migliore, consapevole e responsabile la nostra città Un decalogo di Firenze Un decalogo di Firenze Un decalogo di Firenze